Sono le 6.55 la mattina, ci sono solo i viados e noi che andiamo a rincine. Questa è passione vera. Questa è passione vera. Sì, Massimo è a piedi. Come i vecchi, con la mano dietro e a guardare i buchi del tumore. Stiamo arrivando in cima. Abbiamo fatto tutta la risalita giù dalla fine dei sentieri. E ora arriviamo qua, qua c'è la partezza dei vecchi sentieri, ma noi continuiamo perché ci vogliamo male. La natura incontaminata del Dicomano Sud. Scusate, prendete un attimo, perché se non l'ho riattivato mi spunto addosso. E ora si piange, comincia la salita della sedia. E poi fa freddo adesso. Fa più freddo che a Corvara. E' una cosa strana il mondo. Qui si arriva sull'Olimpo. Guarda a sinistra. Grande. C'è il giusto lei che trova, ma è buono. Questo lei vaiano, viano, come si chiama? Viaio. Viaio. Viaio, viaiaio. Oddio non lo fermo più. Ora scendo tutta così. Grande. Mi sono immerdato. Vieni qui perché ti sei fermato non l'ho capito. Eh no. Sono chiesto. Giù dì, dai. Grande. Vieni qui. 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 vai col doppio grande scusate è per accesa la telecamera si non la posso dire guarda io mi sto rapottando c'è la contropendezza c'è la palla bucchia che vogliono fare c'è la palla no 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 a me così piacciono un monte no anche ancora io vi dico la verità mi fa tutta quella pezzata di strada monotona è molto meglio è fatica uguale però no 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 va sicuro in rovetta è peggio però eh non mi manca la forza non mi manca la destra è usato ciao 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 è l'ultima è l'ultima qui 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 fino a un certo punto poi si scende perché perché diventa un delirio no sassi una cosa però il primo pezzo però lì ma il primo pezzo io ma fatto che non si può tagliare no purtroppo ma il primo pezzo preparati il primo pezzo un po' 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 un Grazie a tutti. Com'è il primo pezzo? Ma il primo pezzo? Ma il primo pezzo? Sono sporco! Com'era? Ma dove ti andai? Perché sono stanco molto? Perché poi entri e cominci l'uplo e già sei in paraboli e quindi uuuh! Poi non neanche tazzi, butti giù, tieni fuori la gambe e vai! Ti dà un modo di... E qui ragazzo è finito però, purtroppo... C'è un po' più! Ci prendo le mani a pezzi! C'è un po' più! C'è un po' più! C'è un po' più! C'è un po' più! C'è un po' più!